Workout total body ad alta intensità da 17 minuti. Iniziamo l'allenamento. V-step. Forza ragazzi, iniziamo con il riscaldamento. 30 secondi di riscaldamento. Facciamo 4 esercizi e poi passiamo al nostro workout total body. Forza, ancora manteniamo il ritmo. Allarghiamo in avanti e stringiamo dietro. Forza, vai. 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Benissimo ragazzi, bravissimi. 10 secondi di pausa e passiamo allo step touch. Fra 4, 3, 2, 1 e andiamo questo. Muoviamo le braccia. Respirazione attiva. Ricordatevi che ci stiamo solo scaldando. Manteniamo il ritmo. Forza, bravissimi. Stiamo scaldando la parte bassa del corpo e poi scalderemo le braccia. Ancora qualche secondo. 5, 4, 3, 2, 1 e stop. Benissimo ragazzi, abbiamo una sforbizzata delle braccia. Forza, fra 4, 3, 2, 1 e stop. Vai. Ed è questo. Forza. Benissimo. Spingiamo bene. Ricordatevi sempre la respirazione. Naso, bocca. Inspiro col naso e butto fuori con la bocca. Manteniamo il ritmo. Bravissimi. Ci siamo quasi. Ancora qualche secondo. 3, 2, 1 e stop. Benissimo ragazzi. 10 secondi di pausa e passiamo all'ultimo esercizio del riscaldamento. Brazza tese e facciamo una circonduzione delle braccia. Vai. Lui. Via. Brazza tese. Forza. Bravissimi ragazzi. Ci siete. Benissimo. Facciamo un movimento ampio. Scaldiamo le spalle. Bravissimi. E poi partiremo con il primo esercizio che sarà lo squat. Forza. Ancora 4, 3, 2, 1 e stop. Benissimo. Bravi ragazzi. Partiamo con il nostro workout. Gambe leggermente ribaricate. Ricordatevi. Squat completo. Tra 3, 2, 1 e andiamo. Giù. Scendo. Salgo. Scendo. Salgo. Scendo. Salgo. Bravissimi ragazzi. Importantissimo. Indietro con il sedere. Ve lo faccio vedere da di fianco. E le ginocchia. Non devono sorpassare la punta dei piedi. Scappo le attive. Petto in fuori. Sedere che arriva fino alle ginocchia. 1 e stop. Benissimo ragazzi. Bravissimi. Perfetto. 10 secondi di pausa. E andiamo sul tappetino. Push up sulle ginocchia. Siamo a 2. 1. Via. Scendo. Salgo. Gomiti stretti ragazzi. Mi raccomando. Forza. Il sedere scende insieme al corpo. Non ha importanza che arrivate fino in fondo. Come faccio io. Mi potete fermare anche prima. Ancora qualche secondo. 5. 4. 3. 2. 1. E stop. Bravissimi. Saliamo. 10 secondi di pausa. E passiamo al prossimo esercizio. Che saranno gli affondi in avanti. Ve lo faccio vedere. Avanti e poi di fianco. Partiamo col destro. Via. Scendo. Torno. Sinistro. Scendo. Torno. Mi metto di fianco. Guardate bene. Passo. Scendo. Torno. Ricordatevi. Il ginocchio non sorpassa la punta dei piedi. Scendo. Torno. Scendo. Torno. Bravissimi. Ancora qualche secondo. Ci siamo quasi. E stop. Bravissimi. Grande. Torniamo sul tappetino. Per la nostra corsa in montagna. Ci posizioniamo. Due. Uno. E via questo. Dai. Forza. Manteniamo il ritmo. Le ginocchia arrivano fino sotto il busto. Teniamo il ritmo. Concentrati. Rimaniamo in posizione di plank. Addome attivo. Ragazzi. Mi raccomando. Fondamentale addome attivo. È zona lombare ferma. Bravissimi. Quattro. Tre. Due. Uno. E stop. Saliamo. Anzi. Rimaniamo nel tappetino. Scendo. Addominali. Criss cross. Up. Ci siamo. Questo. Mani dietro la nuca. Si parte. Distegniamo la gamba. E con il gomito tocchiamo il ginocchio opposto. Forza. 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 Andiamo. Tranquilli. Fatto bene. Distegniamo bene la gamba. Respirazione attiva. Ancora qualche secondo. Buono. Bravi. Due. Uno. E stop. Breve pausa. E ci prepariamo per il secondo blocco. E ci prepariamo per il secondo blocco. gambe divaricate molto. Punte dei piedi aperte. E ginocchia che seguono la direzione della punta dei piedi. Bravissimi. Forza ragazzi. Respirazione attiva. Ma io lo faccio vedere da di fianco. Guardate bene. Schiena inarcata. La sedere che scende molto sotto le ginocchia. Via. Bravissimi. Ancora qualche secondo. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Stop. Benissimo. Dieci secondi di pausa. E scendiamo nel suo tappetino. Push up in quadrupedia. Ci mettiamo a quattro stante. Puntiamo i piedi. Sondegliamo la ginocchia. E si parte. Si scende piegando i gomiti. Leggermente con i gomiti stretti. Manteniamo il ritmo. Benissimo. Scendiamo. Bene. Teniamo. Contrazione dell'addome. Fortissima ragazzi. Bravi. Forza. Ancora qualche secondo. Tre. Due. Uno. Stop. Bene. Saliamo. Affondi laterali sul posto alternati. Divarichiamo le gambe. Destra e sinistra. Via. Ed è lui. Scendo. Torno. Scendo. Torno. Scendo. Torno. Scendo. Torno. Dai. Forza ragazzi. Scendiamo bene. Guardate bene il ginocchio. Segue la punta dei piedi. Mi ziro. Ve lo faccio vedere. Dal lato. Scendo. Torno. Scendo. Torno. Scendo. Bene. Bravi. Forza. Teniamo il ritmo. Mi ziro davanti. Scendo. Torno. Scendo. Torno. Stop. Benissimo. 10 secondi di pausa. Skip. E poi finiamo con un esercizio per gli addominali. Fra 3, 2, 1. Via. Forza. Su. Teniamo il ritmo. Forza ragazzi. Siamo su un total body. Forza. Sgambettiamo. Esercizio cardiovascolare per buttare sul cuore. Forza, forza, forza. Andiamo. Ci siamo. Manteniamo il ritmo. Respirazione sempre attiva. Naso. Bocca. Importantissimo in questi esercizi. Forza. Bravi, bravi. Andiamo, andiamo. Abbiamo quasi fatto. Ancora 5, 4, 3, 2, 1. E stop. Benissimo ragazzi. A terra. L'ultimo esercizio per gli addominali. Twist. Incrociamo le gambe. Solleviamo. Siamo. Destra. Sinistra. Quindi solleviamo le gambe. E solleviamo il busto. Rimaniamo in appoggio solo con il sedere. Dai. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Teniamo il ritmo che ci consenta di arrivare fino in fondo. Destra. Sinistra. Destra. Sinistra. Forza. Vieni ragazzi. Ancora. Dai. Forza. Siamo quasi arrivati. Ancora. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. E stop. Brevissima pausa. E riprendiamo con il terzo e l'ultimo blocco. Squat con il mollezzo. scendo. Scendo. E salgo. Scendo. Molleggio. E salgo. Bravissimi ragazzi. Forza. 40 secondi per il nostro ultimo workout. Andiamo. Bravissimi. Manteniamo il ritmo. Ve lo faccio vedere di fianco. Via. Scendo. Molleggio. Salgo. Scendo. Molleggio. Salgo. Scendo. Molleggio. Salgo. Ricordatevi le ginocchia ragazzi. Non devono passare la punta dei piedi. Forza. Ancora. Quattro. Tre. Due. Uno. Stop. Dieci secondi di pausa. E riprendiamo un esercizio a terra. Per i principi di a terra. Puntiamo i piedi. Magno dietro. Salgo. Scendo. Sedere alto. E scendo con i gomiti. Manteniamo bene il ritmo. Bravissimi. Forza. Ancora qualche secondo. Bravi. Inspiriamo. Ed espiriamo. Manteniamo bene il ritmo. Forza. Forza. Bravissimi. Ancora qualche secondo. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. E stop. Bene. Dieci secondi di pausa. Affondi dietro. Alternati. Partiamo con la gamba destra. Due. Uno. Forza. Destra. Scendo. Torno. Sinistra. Scendo. Torno. Ancora. Destra. Torno. Sinistra. Torno. Destra. Torno. Sinistra. Torno. Ve lo faccio vedere di fianco. Destra. Torno. Sinistra. Torno. Non vi dimenticate della respirazione. Fondamentale. Non vi dimenticate che le ginocchia non devono sorpassare la punta dei piedi. Mi raccomando. Ancora qualche secondo. Tre. Due. Uno. Stop. Benissimo. 10 secondi di pausa. E passiamo al jumping jack. Tra 4. 3. 2. Uno. Andiamo. Via. Lui. Uno. Due. Manteniamo il ritmo che ci permetta di arrivare fino in fondo. Bravissimi. Respirazione attiva. Scappole attive. Addome attivo. Bravi ragazzi. Respiriamo. Bravi. Teniamo il ritmo. Ci siamo quasi. e poi scendiamo a fare l'ultimo esercizio. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. E stop. Grande ragazzi. A terra. L'ultimo esercizio. Per gli addominali. Sit up. Gambe. Usate. Scendiamo. E saliamo. Via. Scendo. Forza. Parto. Tocco. Scendo. Tocco le mani. Scendo. Tocco le mani. Scendo. Tocco. Forza. Teniamo il ritmo. Scendo dolcemente. E salgo. Scendo. E salgo. Scendo. E salgo. Ci siamo quasi ragazzi. Poi passeremo a fare 3 esercizi di stretching. Scendo. E salgo. Forza. 2. 1. E stop. Bene. 10 secondi di pausa. Ci mettiamo con le gambe leggermente rivalicate. E scendiamo a destra. Tranquilli. Con calma. Piano piano. Agganciamo la caviglia. Con le mani. E rimaniamo fermi. Nel frattempo respiriamo. Inspirazione. E buttiamo fuori. E buttiamo fuori. Sali. Sali. In. Out. In. Out. Forza ragazzi. Benissimo. Bravi. 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 Out. Bravi. Ancora. Ancora 2. 1. Salgo piano. 10 secondi di pausa. E passiamo nella parte sinistra. 4. 3. 2. 1. Si scendi. Fermi. Come prima. In. Out. In. Out. Con calma ragazzi. Tranquilli. Gambe leggermente piegate. Leggerissimamente. Proprio per non tenere le tese. Benissimo. Ci siamo quasi. Ancora qualche secondo. 3. 2. 1. Salgo piano. Perfetto. L'ultimo esercizio dello stretching. E del nostro workout. Ci accovacciamo. Con le gambe divaricate. Via. Scendiamo piano. Fermi. Con i gomiti. Spingiamo le ginocchia. Al fuori. Fermi lì. Respiriamo. In. Out. Nel frattempo. Continuiamo a spingere con i gomiti. sulle ginocchia. Con calma. Tranquilli. Ci siamo quasi ragazzi. Abbiamo quasi finito. Abbiamo ancora 4. 3. 2. 1. E stop. Workout terminato. Iscrivetevi al canale TL Fit. E cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. E cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. E cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. E cliccate sulla campanella per rimanere sempre aggiornati.